Ciao Fontana, che cosa rappresenti? Rappresento il simbolo di Carpaneto. Quando sei stata costruita? Sono stata costruita negli anni 30. Per quale motivo negli anni 2000 è stato bloccato il tuo funzionamento? Perché come tutte le strutture, con il passare del tempo, ho richiesto molti interventi di manutenzione e riparazione. Così mi hanno tolto gli impianti, rivestito di un mandio in PVC e coperto il mio giallo centrale, che essendo pericoloso per grandi e piccoli, hanno dovuto poi anche trascennare. Quanto sei stata in disuso? Sono stata a Perma per circa 20 anni. Ti ho proprio aiutato la ricostruzione? L'amministrazione comunale, con il consenso delle belle arti e con il suo ufficio tecnico composto da ingegneri e architetti, ha dato inizio a un nuovo progetto e così ho riacquistato nuova vita. Sono ancora più bella e colorata di prima. A chi sei stata dedicata? Sono stata dedicata a tutte quelle persone che purtroppo hanno perso la vita a causa della pandemia di coronavirus. Quando mi guarderanno tutti potranno ricordare con amore tutte quelle persone. Hai qualche ricordo del tuo passato? Sì, mi ricordo che in passato i bambini giocavano correndo sui miei bordi o dondolando sulle altalene e squinzavano sullo scivolo. Cosa desideri per il futuro? Di essere quello che sono sempre stata, un luogo di ritrovo per tutti dove si può socializzare, ridere e scherzare, conoscere amici e costruirsi bellissimi ricordi. Sono sempre stata il simbolo del paese e voglio continuare ad esserlo. Grazie a tutti.